Bye Bye Marshmallow, 8 e 30 minuti spaccate per la ultima mezz'ora di trasmissione di Good Morning Milano qui in diretta su Crystal Radio. Vi l'avevo detto, parleremo di cinema, parliamo di carceri, parliamo di come raccontare le due cose e farle bene si può fare solo grazie a un regista. E quindi diamo il benvenuto a Michele Rò. Buongiorno Michele. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora Michele Rò, benvenuti in galera, questo è il nome del film che ieri sera avete presentato in anteprima al cinema Arlecchino di Milano. Il titolo è abbastanza eloquente, però in realtà c'ha un gioco di parole dentro, diciamo, perché non è quello che uno può pensare e basta, giusto? Sì, assolutamente. Il titolo, adesso non ve lo spoilero perché si spiegherà poi nel documentario, ma la finalità del benvenuti in galera è proprio invitare la gente ad avvicinarsi al tema della carcerazione, non avere paura, ma imparare a conoscerlo e a parlarne e ad avvicinarsi. E tutto parte dal ristorante in galera che è stato il primo ristorante al mondo aperto dentro un carcere, nel senso adesso ne hanno aperti altri, ma è stato il primo. Ricordiamo essere a Bollate, cioè quindi un'eccellenza milanese nel carcere di Bollate, il primo ristorante al mondo aperto in un penitenziario. Sì, aperto in un penitenziario, ma soprattutto appunto la peculiarità è gestito da detenuti, sotto la supervisione chiaramente delle ideatrici del progetto, che è esterna, Silvia Polleri, ma interamente gestito da detenuti. Il tema è fondamentale anche in questo momento perché gli ultimi dati danno le carceri italiane veramente al collasso, siamo più di 60 mila i detenuti in questo momento in Italia con una capienza massima di 48, se non mi ricordo male, questi erano i numeri più o meno, di cui questi più di 8.730, più o meno questi erano i dati a novembre del 2023, sono proprio nelle carceri lombarde che potrebbero al massimo contenere sulle 6.100 persone. Anche questo qui è un tema comunque molto importante. Secondo te però perché questo tema viene poco raccontato? E lo chiedo a uno che l'ha raccontato, quindi è un paradosso questo. Guarda, in realtà quando si parla di carcere purtroppo ci sono veramente tanti aspetti di cui si dovrebbe parlare e che rimeriterebbero un film a sé. Nel senso che c'è il tema del sovraffollamento che citavi tu, c'è il tema purtroppo dei suicidi, sia dei carcerati ma anche della polizia petitenziaria, che è una cosa che la gente conosce poco. C'è il tema del carcere femminile. Perché purtroppo ci sono veramente tanti aspetti e tante cose. Perché non si affrontano, mi chiedevi, perché il carcere fa paura. Cioè, e te lo dice uno che, per carità, questo tema lo conosceva, insomma, mi è sempre stato caro, ma poi quando vai di vicino, quando conosci le persone, comunque il carcere spaventa, spaventa l'istituzione di per sé e spaventa anche le persone dentro. Quindi si preferisce un po', come dire, quelle cose che nascondi sotto una coperta e dici, vabbè, ok, sta lì, non me ne occupo. E Michele, come si fa allora a raccontarlo senza spaventarsi e, dall'altra parte, anche senza impietosirsi, senza fare sempre quel pietismo inutile che a volte invece viene fatto in certe circostanze, senza fare i giustizieri dall'altra parte, senza fare i giustizialisti, cioè non è un tema semplice, no? No, allora, il tema è molto complesso e io ci ho messo più di tre anni a fare questo istituzionitario e quindi, insomma, questo spiega anche proprio la complessità del tema e anche perché non dobbiamo ricordarci che, insomma, c'è sempre da un'altra parte, ci sono i detenuti, ma dall'altra parte ci sono anche sempre delle vittime. Quindi ci vuole sempre un gran rispetto anche rispetto a questo. Io, dal mio punto di vista, lo puoi raccontare in maniera diversa, io ho fatto una scelta dopo essere stato lì parecchio prima di iniziare a filmare, è di... ho voluto provare a cambiare il punto di vista, cioè ho provato a raccontare questa storia dal punto di vista di chi sta dentro, dei ragazzi, quindi stando vicino in un qualche modo all'uomo, senza pietismi, senza soluzioni, senza... chiamiamole come vogliamo, ma ho provato a mettermi di fianco a loro, nel senso che in genere si guardano sempre, invece ho provato ad ascoltare le loro voci, cioè che cosa si prova ad essere un detenuto, che cosa provi tu quando esci, quando cerchi lavoro, quando stai cercando di rifarti una vita. Ecco, ho provato semplicemente a cambiare il punto di vista, questo perché l'ho sentito io necessario quando ho iniziato a lavorare e a raccontare questo progetto, poi ci sono mille modi, che hanno fatto dei film bellissimi sul carcere, appunto. Chiarissimo. Allora, io ti chiedo di rimanere ancora qui un attimo con noi, se non devi scappare, perché ci ascoltiamo i Tiro Mancini insieme a Carmen Consoli e poi ci racconti un po' invece che strada farà questo documentario, com'è stata la realizzazione e possiamo ancora vederlo all'arlecchino, quindi insomma rimanete collegati con noi che vi diciamo tutte le coordinate per andare a vedere, benvenuti in Galera di Michele Ro. L'odore del mare, Tiro Mancini insieme a Carmen Consoli, 8 e 39, venerdì 12 gennaio, questa è Crystal Radio, io sono Fabio Ranfi e state ascoltando Good Morning Milano. Allora, le cose le sapete adesso. Chi abbiamo collegamento con noi? Invece Michele Ro, regista, regista insomma che ha fatto tanti film e cortometraggi, regista premiato in varie situazioni, ma questa volta Michele dobbiamo parlare appunto della tua nuova opera che è Benvenuti in Galera, presentato appunto ieri sera al cinema Arlecchino. A proposito, come e quando possiamo vederlo? Fino a quando possiamo vederlo in Arlecchino? Dacci un po' le coordinate anche tu. Allora, l'idea è un po' di tenere il film documentario, dargli la possibilità di far passare il passaparola, quindi di tenerlo su un po' di settimane. Quello che è sicuro adesso è che voi potrete trovarlo fino a mercoledì 17 gennaio intanto, perché sapete che le programmazioni delle sale sono settimanali, e sul sito del cinema Arlecchino trovate tutti gli orari, perché ovviamente avrà diverse proiezioni all'interno della giornata. Poi l'idea è che ci stiamo attivando con altre sale in tutta Italia, perché chiaramente il tema interessa molto, e successivamente poi vorrò portarlo nelle carceri e nelle scuole, perché tornando al discorso di prima, è un tema molto importante di cui è importante che se ne parli, e non si abbia paura a parlarne. Per questo, secondo me, anche andare nelle scuole, sono le teste che matureranno nel futuro, è molto importante. Qual è stato l'aspetto della produzione di questo film che più ti ha colpito, le storie che hai raccontato? Cosa ti ha colpito di più nella realizzazione di questo film? Allora, la cosa che mi ha colpito maggiormente è stata inizialmente quando abbiamo iniziato le riprese, abbiamo fatto diverse tranche di riprese, ovviamente in tre anni, anche perché poi c'è stato il Covid e quindi abbiamo dovuto fermarci, e questo però mi ha dato la possibilità di vedere delle storie che cambiavano, perché io seguivo questi ragazzi, e quindi alcuni di loro sono usciti, quindi li ho potuti seguire fuori. Ma la cosa che mi ha maggiormente colpito all'inizio è stato proprio questo senso, quando giravo dentro il carcere, quindi dentro la cucina interna, la sera uscire, tornare a casa e lasciare questi ragazzi lì, cioè come detto, questo senso di, ok, io me ne vado e loro rimango lì, comunque è un luogo che si fa sentire proprio a livello di percezione nel carcere, quindi lì sai, il tempo sembra tutto fermo, quindi innanzitutto è stato un po' a livello emozionale questo, questo sdoppiarsi un po' del tempo, quando io la sera me ne andavo via, perché poi chiaramente con i ragazzi si crea un rapporto, perché li vedi tutti i giorni e giri con loro. Questo è il primo aspetto. L'altro aspetto è sentire una grande responsabilità, nel senso che quando racconti una storia di questo tipo e a che fare con un'umanità di questo tipo, perché poi al centro di questo film ci sono le storie di questi ragazzi, degli esseri umani e anche della signora, ecco, sentivo una grossa responsabilità per trovare il giusto registro con cui raccontare questo. Michele, ti faccio una domanda, forse da un milione di dollari, non lo so, però come si fa a non dividere il mondo in buoni e cattivi quando si è lì? Come fai a non cadere in quella trappola? Oppure ci cadi e poi dopo in qualche maniera ne vieni fuori? Beh, è una domanda da un milione di dollari, però io... Cioè, ricordiamoci che tu hai dato una storia di ragazzi a cui ti sei affezionato, a cui adesso vuoi bene tutto, che però, insomma, se sono lì dentro è perché qualcosa hanno combinato, diciamo, no? Chi più, chi meno, ma comunque, insomma, la giustizia ha deciso che lì era il luogo dove dovevano stare per un periodo. non essere facile comunque all'inizio e poi anche alla fine, nel senso, a gestire questa cosa e appunto siamo abituati a dividere il mondo in bianchi, neri, gialli, rossi, buoni e cattivi, no? Certo, ma guarda, in realtà, sì, assolutamente vero. Il tema è che io sono partito da un presupposto che poi il presupposto parte da chi ha fatto questo progetto. Cioè, il concetto è trattare queste persone come degli esseri umani. Cioè, è giusto che loro siano lì perché hanno sbagliato. Però è sbagliato che queste persone non vengano trattate con dignità, gli venga levata la dignità. Ok? E spesso è un problema che c'è dentro le carceri, come vengono trattate queste persone. Quindi, come dire, raccontare la complessità, non farne degli eroi perché chiaramente nessuno ha l'interesse di farlo qua, però ascoltarli, sentire, provare a vedere, ascoltare il loro sentire. Io non, in tutto il documentario, non si parla mai di ciò che hanno fatto, perché non mi interessa. Cioè, non era quello l'oggetto. Si parla del loro sentire. Ok? E tutti loro sanno, tutti loro, credetemi, sanno, che hanno sbagliato, che hanno fatto, che hanno, come dire, che hanno, hanno, hanno perso, diciamo, la retta via, ma stanno cercando di recuperarla. Però, chiaramente, raccontare la complessità è importante, le sfumature, e quindi, nonostante poi, il documentario è in bianco e nero, però in bianco e nero con tante sfumature. Chiarissimo. Allora, non possiamo neanche dire più le sfumature di grigio, perché ormai diventa un'altra roba, con l'altro film non c'entra niente. Ci hanno rubato anche quello, Michele, non possiamo neanche dire è un film fatto a sfumature di grigio, non possiamo, non possiamo dirlo, ce l'hanno rubato ormai, non possiamo più dire neanche quello. Michele, dacci quindi, ricordaci bene, fino a quando al Cinema Arlecchino, e dove possiamo seguire anche tutto il tuo operato? Allora, guarda, fino al Cinema Arlecchino, sicuramente fino a settimana prossima, fino al 17 gennaio, ma rimarrà su per più settimane, quindi tenete d'occhio la programmazione del Cinema Arlecchino, e soprattutto è una programmazione fatta ad hoc per sia le famiglie che per l'inguno, io lo potrei trovare la sera, il pomeriggio, insomma, per i liberi professionisti, insomma, diciamo che la Cineteca fa una programmazione veramente disponibile a tutti. Poi saremo in tutta Italia, potete vedere, adesso a breve ci sarà un sito che si chiama www.benvenutingalera.it dove si annunceranno le proiezioni, ma soprattutto per chi fosse interessato a volerlo proiettare, ci potete scrivere e si organizzano proiezioni ad hoc, sempre appunto nell'idea di mostrare il film, farlo girare, mostrare il film a più persone. Chiarissimo Michele, allora dimmi di me. No, e poi ci auguriamo una cosa che io mi auguro molto, perché il film, scusate, il ristorante appena aperto, diciamo, è stato un caso, perché il New York Times l'ha scoperto, gli ha dedicato una pagina grossa, quindi è un progetto che in America, di cui se ne è parlato molto, io sto cercando di portare all'estero, perché comunque, come dicevi tu prima, cioè il tema della carcerazione è universale, cioè, alla fine, siamo bianchi, neri, rossi, blu, parliamo lingue diverse, ma il carcere è ovunque e ha ovunque grossissimi problemi, quindi io mi auguro di poterlo portare soprattutto all'estero. Bene, allora noi te lo auguriamo anche noi, ci auguriamo di sentire il tuo nome storpiato in qualsiasi parte del mondo, perché almeno vuol dire che ce l'avrai fatta, dai. Grazie mille Michele, complimenti ancora per il tuo lavoro, e un saluto a tutti i tuoi collaboratori, a coloro che appunto anche compaiono. Io vi ringrazio e complimenti a voi e al vostro lavoro. Grazie mille, grazie mille a Michele Rò, seguitelo appunto, Michele Rò, scritto con l'H, è come la paese uguale, Michele Rò, seguitelo, e andate all'Arlecchino a vedere, benvenuti in galera. A dopo noi, ci sentiamo fra poco, ciao, grazie Michele. Ciao, ciao.